Palloncini in cielo ad accompagnare le lacrime e l'incredulità di un dolore inconsolabile. La chiesa Santa Croce di Calcinelli ha tributato questo pomeriggio l'ultimo saluto a Davide e Fabio Zandri. Uno straziante duplice funerale cominciato alle 16.30 con l'arrivo dall'obitorio di Fano dei feretri di papà e figlio morti annegati sabato mattina nelle acque agitate ed infide del mare di fronte alla spiaggia dei fiori di Gimarra. 44 anni Davide, operaio della Profilglas, quasi otto Fabio, terzo genito di una famiglia devastata da quel 9 luglio in cui un sabato in spiaggia si è trasformato in una tragedia immane. In chiesa le parole di Don Matteo Pucci hanno cercato di porgere una carezza di conforto all'immisurabile dolore di Stefania Carpignoli che ha perso marito e figlio terzo genito ma che con grande dignità sta mostrando forza per il suo ruolo di madre di Luca, secondo genito dodicenne che sabato si è salvato dal mare impetuoso e che ora sta rispondendo positivamente alle cure del Salesi di Ancona dove è stato trasferito da rianimazione a pediatria, così come del primo genito quindicenne che in quel maledetto sabato rimase a casa. Tante comunità si sono raccolte in chiesa per il sostegno alla famiglia Zandri, quella di Coglia al Metauro dove gli Zandri sono di casa, quella di Terre Roveresche da dove Davide e Stefania erano originari, quella di Fano che è stata teatro di questo dramma toccante. All'altare le parole di amici, colleghi, insegnanti e del presidente della provincia Giuseppe Paolini che si è fatto portavoce di tanti amministratori affranti. In chiesa anche il personale di quella guardia costiera impegnata per ore sabato in ricerche e per lustrazione. Commozione, affetto e solidarietà, quello delle oltre 1.300 donazioni che stanno portando un gesto concreto al sostentamento della famiglia Zandri che aveva nel lavoro di Davide l'unica fonte di reddito. La raccolta fondi attivata sul sito GoFundMe ha infatti permesso di reperire ben 50.000 euro. Gesti concreti per dare una mano concreta a Stefania e i suoi due figli.